...davvero una facciata, il momento di andare già a lineare, a ricoprire... ...quà, qua... ...non riconosce la maglietta... ...i vostri posti... ...quì qui non ha l'impresa... ...scatta rossi, scatta... ...ottimati i protagonisti, guardate capire i suoi di vostri amati... ...quando venite, condivite per completare la vostra impresa... ...può essere la prima, può essere la tesima, la ripresa... ...non ci avete preferito, ci avete dedicato il posto tra entusiasmo, quali è passione... ...sono i partiti ai quali non ci faccite, mi raccomando tutti... ...noi ne scendiamo tutti, nessuno scuso... ...segnore, se ne vediamo altri luoghi, non in giù, non importa... ...perché fate rispire le più partite... ...in caso sono saltati in cinquanta secondi... ...in caso dalle tre ore nel Signore... ...sta bene per tutti... ...acquesa, Luca, Marco e Davide... ...Nella Maria, Amedeo... ...Vaniera, Manuela e Sofina, Manuela e Angela... ...quelle che non vanno mai qui... ...dopo 360 minuti... ...cambi il senso di marcia... ...per motivi per motivi... ...ma noi li veniamo a prendere... ...ad incoraggiare... ...tra circa tre chilometri... ...intanto... ...novanta secondi si ne sono andati... ...e intanto a volte devono ancora mettere in cuoto... ...i loro potenti motore... ...gerate a tutti noi... ...per questa grande risposta... ...vi invitata anche nella giornata di ieri... ...la giornata ci aiuta... ...voi aiutate tutti noi... ...non possiamo fare altro... ...che dare... ...ma s woulda è gesparte... ...t와 quei... ...cassol... ...ma s'è mont зач 두ata... ...com efficacy... ...ma dasmealworth nel mismo... ...ma s'è montato sulno... ...ma s'è att Cause poivissimo... ...un�도 lo... ...non lo diavongo... ...lo idea che la parola bleibt... ...luina... ...la... ...la... ...lai... ...laé... ...la... ...la... la... ...la...la... Grazie a tutti.